e bentornati a tutti ragazzi io sono laxp oggi siamo su brawl start e come vi avevo promesso oggi andiamo a provare ultimamente trovata pam anche sul livello 1 però comunque andiamo a provarla inoltre andiamo a potenziare tutti i brawler che posso potenziare quindi spenderemo un bel po d'oro adesso però lo faremo dopo aver provato pam vediamo la mappa ci può stare ci può stare anche questa ok facciamo queste due mappe proviamo a prendere il gestore e andiamo allora bella dara mi piace moltissimo per i cosiddetti appunto come avete visto se avete visto il mio precedente sa bene quello che penso vediamo dov'è dov'è dove sei ecco di non è morto non è morto neanche dov'è si dov'è andato prima o poi e crede come l'ho detto sono morto proviamo a schiazzare qui la torretta curativa e andiamo a togliere quel mortaio prendiamo le gemme non ce l'ho fatta prendere le gemme purtroppo stiamo perdendo palesemente ok fuggi fuggi bravi ragazzi che avete vestito tutti e mi metto qui mettiamo la torretta curativa e vittoria per noi avevo un buon team in questo caso il dettore stellare e no non voglio giocare con voi ok andiamo adesso su ricercati che sarà secondo me un po' più complicata come modalità comunque con dynamite sono molto migliorato sono arrivato al grado 7 mi sembra e anche giocando soltanto con le partite quelle in singolo è una bomba ok vi consiglio appena riuscite a sbloccarlo vedrete se già non ce la vede che è veramente fortissimo qua ti rischio di morire mettiamo la torretta qua e recuperiamo la vita oh finalmente non riuscivo a fare una kill questo brokhead due volte che lo trovo contro non ce la faccio a uccirlo rimane sempre oh ucciso non pensavo di uccirlo meglio rimane sempre con quel poco di vita dovuta anche probabilmente dal livello però aiuto 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 fugi fuga aia aia non vorrei mettere la torretta qua dietro perché riesco a metterla qui appena ricresceva l'erba muori perfetto mi ha distrutto subito la torretta peccato andiamo a fare un po' di danni per sbloccarne un'altra stiamo giocando male comunque ancora non siamo morti facciamo la torretta qua bene noi ci raccontiamo del muro e ricarichiamo la vita grazie alla torretta se qualcosa avvicina mi spariamo e a posto bella bomba dina mike complimenti volevi tagliare l'erba e siamo morti mi sono esposto un po' troppo togliamo questa torretta mettiamo questa qua così posso attaccare anche un po' più avanti se sopravviva la torretta bene e ci portiamo a casa anche questa bella bomba peccato non siamo star player anti-dynamic che andava a tagliare l'erba va bene e saliamo in grado 2 10 stelle ha preso perfetto allora come potenziamento intanto andiamo a prendere come avevo detto ci spendo 50 cm c'era anche l'offerta che mi mi tentava parecchio però non so se valeva la pena per 400 a doppio settore in meno andare a prendere 105 punti di energia non lo so comunque la fine oggi so di prendere questa che preferisco e andiamo subito a prenderla tac ok poi adesso andiamo a potenziare i brawler per lo più quelli che mi interessano almeno tipo shelly 480 milioni a livello 7 e boom ok poi nida 290 vai bull assolutamente 140 poi stecca potenziamolo ma fino a livello 4 berlin non mi piace in questo momento lo potenzio potenzio poso anche se vabbè questo è considerato che è rimasto solo l'ultimo potenziamento andiamo a fare anche il suo berlin fattare tutti bene adesso sono tutti contenti i miei brawler tutti potenziati e ok noi per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo un saluto a tutti e bella